buonasera amici della soul society e soprattutto nemici del hueco mundo eccoci qua per la lettura del venticinquesimo episodio nel venticinquesimo volume di bleach se siete qua è perché fondamentalmente avete lo state guardando da youtube altrimenti vi siete persi più o meno una trentina di minuti di visione di parti di parti varie dell'anime tratte ovviamente dal volume 24 che abbiamo letto la scorsa settimana quindi ciancio alle bande perché ormai sono 35 minuti siamo in live e andiamo avanti a leggere il volume 25 speriamo stavolta perlomeno di non doverci rompere il cazzo tutte le volte a dover cambiare le dimensioni qua qua no sembra di no o la iniziamo iniziamo male aggiungo anche dato la tua scarsa capacità dato 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 data cominciamo data la tua scarsa capacità di rilevare il reiazzo sono piacevolmente sorpreso che ci hai trovato quando eri qui attorno ho liberato il mio reiazzo in modo che tu ci trovassi facilmente o la ora è chiaro ora è chiaro no ma non è un sorrisetto fede è una paresi allora dimmi cigo sei venuto fin qui per unirti a noi o cosa no io unirmi a noi a voi basta con le frottole l'unico motivo che sono qui l'unico motivo per cui sono qui l'unico motivo per cui sono qui è di servirmi di voi come io non voglio venirvi a voi ma voglio che mi insegnate come controllare l'ho lo che è in me e tu credi davvero che te lo insegneremo imbecille io non te lo sto chiedendo e allora cosa ma con la forza non farmi ridere tra l'altro scritto malissimo io non lo sto chiedendo e allora cosa ma con la forza cosa fai con la forza partiamo con una traduzione veramente fatta di merda tira fuori il cos come si chiama è il ranger morfer cioè ci manca solo che si metta a fare sto giochino qua cioè proprio forza mammut c'è una roba così cioè perché diventa nero ho detto forza mammut perché diventa nero perché se diventava rosso dicevo tirannosauro invece no c'ha il vestito nero quindi forza mammut a attacchiamo facciamoci ridere dietro bella bella la scena dove vabbè abbiamo la spada lì per terra facciamo vedere facciamo vedere che siamo fighi truc e ce la ritiriamo in mano a sei proprio uno stupido a sguainiamo iai uno tira fuori il coltava cucina l'altro iai tira fuori il tuo dio momento di scontro ma ovviamente il visard è molto molto più comodo e gli risponde tranquillo dannato tra l'altro ichigo è già sanguinante cioè non ha neanche iniziato a combattere però c'è già il sangue che cola peggio di zorro non è ancora idiota quel licigo per tenere a testa iraco è abbastanza in gamba imbecille guarda meglio shinji non sta facendo seriamente con lui comunque non puoi negare che quel licigo non si stia battendo seriamente ha paura è evidente paura e di che del suolo non posso credere che quel tizio così imbecille da iniziare a combattere senza richiamare l'olo dentro di lui pensare a uno del genere che sta tentando di farsi strada con noi a quel livello c'è ehi dove stai andando hiorin hiorin aci rinforza la protezione con cinque barriere va bene ichigo tu shinji smettila cioè l'ha sparato fuori dalla barriera perché questa è una delle cinque barriere ti avevo detto di alzarla a cinque come non ho avuto abbastanza tempo fa lo stesso ichigo ti devo dire una cosa stai facendo un grave errore un errore ti senti così sicuro che noi ti vogliamo con noi come cazzo è scritto ma come cazzo scrivi tra l'altro ti senti così sicuro che noi ti vogliamo con noi sei sicuro che ti vogliamo con noi? sei sicuro che ti vogliamo con noi? cioè dio cristo ma non sei tu a deciderlo che vuoi dire? che questa scelta spetta a noi ora che tu lo voglia o meno che tu voglia o meno entrare nella nostra squadra misureremo la tua forza e determineremo noi se vogliamo fare di te veramente uno dei nostri o meno questo è tutto madonna cioè cioè è vero che pensiamo di farti uno di noi nel senso che lo prendono e lo sodomizzano malissimo partendo da quello che doveva mettere cinque barriere e ne ha messe solo una perché le altre quattro se le mette attorno al pipo e poi dopo abusa di ichigo detta proprio come va detta madonna mia che brutto adattamento rifletti bene sulla tua posizione tu non hai il diritto di scegliere tu sei forte tu sarai uno dei nostri e noi ci appropriiamo del tuo controllo anzi del controllo del tuo olo interiore se tu sei debole allora dimenticati di noi sparisci e muori solo come un cane se hai capito sbrigati e trasformarti in olo mostraci la tua forza mi rifiuto allora non hai capito niente te l'ho già detto non hai scelta una maschera da olo se tu non puoi trasformarti in olo non mi lasci altra scelta ti massacrerò e farò uscire l'olo che è dentro di te con la forza oh vedi l'ultima battuta scritto come si deve tutto il resto del capitolo scritto con i piedi ma non siamo alle paraolimpiadi fatemi vedere un attimo nella color com'è la frase della forza perchè è veramente cua ah beh buongiorno kikidasuza ok doiate in che modo chikarasukude cioè in che modo con la forza non ma con la forza cioè allora te lo farò sputare fuori in che modo con la forza non farmi ridere cioè è anche una roba diversa c'è anche un ritmo diverso cazzo cioè era un ritmo totalmente diverso ma vabbè andiamo avanti vediamo gli schiaffoni con i wizard translation michela05 mmm editing wizard ecco wizard poteva fare qualcos'altro nella vita una maschera da ollo non di ollo oh Oh, ohioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Baaaaaam Ciao Asrur Così Va tutto bene A-Cin? Non proprio Lievemente Rimane fuori il bianco sotto Tranquillo Ne ho abbastanza Non hai capito? Cioè Per farti capire C'è il bianco tagliato Finiscila di aver paura Ichigo Io non ho paura Bene Sarò più gentile Tira fuori il tuo bankai Smettila Io so cosa stai pensando Quando usi il tuo bankai Contro qualcuno più forte come noi Temi di perdere il controllo del tuo hollow Non ho ragione Ti ho detto di fare silenzio Imbecille Mi disgusti Se ci tieni tanto Ti farò a pezzi Qualunque cosa tu sia Se sei tu quello spaventato Allora fai un po' come ti pare Non usare il bankai O trasformarti in hollow Io ti ucciderò È finita Merda Rifletti Lei come può continuare Ad avere il controllo di sé Con la forma hollow Come riesce a mettere la maschera E a togliere la maschera A suo piacimento Stiamo combattendo faccia a faccia E osservandola Dovrei essere in grado di capire Ecco perché sono venuto qui Non ha ancora usato il suo bankai E non si è trasformato in hollow Sembra che non voglia mettersi Nelle mani della sua anima Un'altra volta Finalmente Deciso che piuttosto di scoppiare Bella Bella sta tavola E la prende E ha usato solo mezza maschera E lei sta già schiumando dalla bocca E peccato Che sono entrati in azione Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Dicevamo Sì sì Alza pure le mani Stronzo Pezzo di stronzolo È abbastanza Sì 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 È lui che non lo usa L'avevo capito L'avevo letto male Ma l'avevo capito È abbastanza Tutto a posto Iori Si sono caccati sotto Sì Dovresti averlo capito Ichigo L'hollow dentro di te Non è qualcosa che deve essere soppresso Dall'attumento e dal tuo corpo L'esame è superato Mi occuperò del controllo di quest'hollow Dal profondo della tua anima Ah Ah Magari Adesso devo rimpicciolire un po' Qua Oh là Quindi Per là Ok Siamo in venticinquesimo volume Credo che questo sia almeno il quarto allenamento in venticinque volumi Io non oso immaginare quanti altri allenamenti ci saranno da qua al settantaquattresimo Ok Abbiamo cambiato traduttore MBT6 Uh uh Il fratellone non è ancora tornato Ah Dacci un taglio Tornerà da solo fra due o tre giorni Perché sei così tranquilla Karin Chan Potrebbe essere stato rapito O può aver avuto un incidente Oh no Che succede Yuzu Perché stai piangendo Aspetta un attimo Yuzu Papà ti mostrerà un interessante spettacolo da morire da ridere Uh Basta mettere questo Qui 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 Sono un'idegaruma Che cazzo è un'idegaruma Vabbè Eri un'idegaruma anche prima Rukia-chan Rukia-chan Si vede per tutto il Si vede per tutta la Soul Society Ma non si rendono conto in un quartiere di Di cos In un quartiere di Sì Higedaruma È un Higedaruma Vedrai che sarà così Superjoy Più che un'idegaruma È un Higedaruma Adesso dopo ci vado a vedere Cioè questi non riescono a trovarlo Vabbè Ah è vero sono nella barriera C'hai ragione Che Non ci posso credere Che stai facendo piangere La tua sorellina Mocciosetta Sei davvero Sei davvero un fratellone schifoso Oh facciamo un po' di allenamento Oh 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 Ah Il pranzo è in ritardo Io arrivo a cucinarci qualcosa da mangiare Ma sei scemo Perché dovrei cucinarti qualcosa E poi Anche se lo facessi Non te ne darei neanche una briciola Pelatone Rabu Hai sentito il nuovo album Del Principe delle Tenebre? Dimenticati di quello Rozu Non hai neanche letto il Jump di questa settimana? No sei tu quello che non volevi che lo leggessi È fantastico Sarà sicuramente Love Rose Lisa Sicuramente Love Rabu Love Love Rose Lisa Lisa è il tuo giorno oggi Perciò Controlla quel tizio Shinigami come dovresti Oh lo sto guardando No non lo stai facendo Non hai distotto lo sguardo dei tuoi giornaletti porno Neanche un istante Chiudi il becco Smettila di infastidirmi E sparisci Gli darò semplicemente il passo Contento? Ok Un Due Un Due Un Due Basta Io mollo Che diavolo di problema hai? Vuoi che ti prendi da calci nel petto pelatone? A calci in culo pelatone? Questo lo dovrei dire io No Questo lo dovrei dire io Per quanto riguarda il controllo del tuo ollo Farò sì da rimandarlo nelle profondità della tua anima Lo hai detto come se pensassi veramente anche come Pensassi veramente Allora come sono finito su questa merda di apparecchio? Che siete rincoglioniti? Mi viene da pensare che Il rincoglionito sia io Che faccio quello che mi dite Non posso dire la parola con la R Se no mi buttano giù il canale Sei tu rincoglionito E non solo Sei anche un pelatone Stai rubando del prezioso tempo I nostri occupatissimi programmi per allenarti Perciò Chiudi il becco E sii grato Grazie Ricky Finiscila con il pelatone Yaeba Catanzarese In più Che genere di stupido allenamento è questo Comunque Abbiamo comprato il pranzo Mangiamo adesso? Con pelatone Non mi riferivo ai capelli Ma il tuo cervello In più Lo yaeba È parte del mio fascino Pelatone Hai detto pelatone ancora? Mangiamo adesso Mangiamo adesso Cosa è successo Baritain? Sembra stai facendo una gran confusione Già Sembra che non voglia fare Il super camminatore Di Hiyori Il super camminatore Di Phyrexia Ah Eh? Dopo tutto questo tempo Ah La mia Mille opinione È che Hiyori-san Avrebbe dovuto Spiegargli Chiaro e tondo Lo scopo del camminatore Sin dall'inizio Sono d'accordo Lei tralascia sempre le cose Finiscila Finiscila di lamentarti E continua su questo Finché non ti sono cadute le braccia Tu piccola Aspetta Ichigo Quel merdoso camminatore di Hiyori È per costruire la base Del tuo allenamento futuro Super Basandoci su questo Su quanto a lungo Riesci a resistere Saremo in grado Di decidere Il livello Del tuo prossimo allenamento Perciò Come ha detto Hiyori Dovresti Davvero smetterla Di lamentarti E continuare Sul merdoso Camminatore Di Hiyori Tantissimi Troppi È super Non merdoso Ti ammazzo Per la tona Donshinji Prima che io ti insegni A trasformarti in Ollo Dovrai continuare Su quello Per almeno Tre Giorni di fila Che cazzata Su questa cosa Non solo potrei resistere Per tre giorni di fila Ma per un'intera settimana Se lo volessi Ho scoperto Il suo vero scopo Solo dopo aver pagaiato Per un intero giorno Toccando quella cosa La mia energia spirituale Viene succhiata via È questo Tutto quello che fa Volete vedere Per quanti giorni Riesco a pagaiare Per scoprire Qual è il livello massimo Della mia energia spirituale Giusto? Beh Con la quantità Che ho adesso Lo posso fare Per altri cinque giorni Senza problemi È per questo Che è solo una perdita Di tempo Perciò Sbrigatevi A insegnarmi A controllare Il mio Ollo Non ho tempo Per giocare con voi Visard Adesso Basta Tu non hai tempo È ironico Che sia tuo A dire questo Quando non sai Nemmeno Quanto tempo Ci vuole Per risvegliare L'Ogioku Aspetta Aspetta Cos'hai appena detto? Sia Dello Ghioku Che della trasformazione In Ollo Tu non sai Niente Quindi smettila Di sbraitare Cose che non Come se sapessi tutto Cosa? Come hai saputo Dello Ghioku? Io so Un sacco di cose Ogioku Arankar Sosuke Aizen Io so Tutto quanto Da molto Molto Prima Che tu facessi La tua apparizione In quanto ai dettagli Posso aspettare Più tardi Volevo darti Un po' di tempo Per imparare Qualcosa Sugli spiriti Ma Mi viene da pensare Che finora Sia nel diventare Uno Shinigami Sia nell'ottenere Il Bankai L'hai fatta In un tempo Riacord Come sai Tutto questo? Quindi sto Per fare Come mi hai chiesto Forse Nel tuo caso Bruciare le tappe È la cosa Più giusta Da fare Andiamo Ichigo Sarebbe meglio Che dopo Tu non ti pentissi Di questo Però AC Barriera Doppio strato Di dislocazione Sì signore Puoi sentirmi Ichigo Da adesso in avanti Comincerai a trasformarti Completamente In un Olo Non lasciarti divorare Divoralo tu Invece Se viene divorato È la fine Ah Siamo tornati Siamo tornati Dentro alla testa Di Ichigo Una volta La testa di Ichigo Serviva a conoscere La sua spada Ora Andiamo avanti Vediamo Lo scontro Tra Ichigo bianco E Ichigo nero Io Ne è passato Di tempo Su altezza Ok Ci sono degli extra Ma li guardiamo dopo Io Ne è passato Di tempo Su altezza Bello in bianco Totalmente bianco Come nella cover Bello 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 anche nella cover Così Aci Metti una barriera Anche qui Eh Non fare Sei troppo vecchio Per questo Non è affatto bello Comunque Dopo che hai fatto Sigilla anche il corpo Di Ichigo Sì signore Mura di sabbia Di ferro Pagoda sacerdotale Lucciolo Lucenti Vestiti d'acciaio In posizione eretta In silenzio Fino alla fine Bakudo 75 Gochutezkan Cinque pilastri Trafiggenti D'acciaio Va bene C'ha dei pilastri Piantati Va bene Che c'è Stai davvero Facendo una faccia Da mammoletta Eh io Dov'è il vecchio Zanghezzo Tu bastardo Non ti seguo Quando hai detto Zanghezzo Intendevi Quella Che stai Impugnando tu O stavi Parlando di Questa Che tengo io Una zanghezzo Bianca Vuoi sapere Dov'è zanghezzo Te lo dirò Io Sono Zanghezzo Beh La barriera Che tiene bloccato Tutto E questi Hanno già sentito Che c'è Un ollo Grosso Lì dentro Sì Qua non si parla Di spoiler Per all in Stasera Bleach Spoiler Domani Sta iniziando Ehi Non dovremo prima Nascondere la sua Zampacto Sarebbe inutile Arrivando così vicino A lui Ci metteremo Solo in pericolo Grazie Pierre Neanche spoiler Di Bleach Uuuuh E già si rompono I pilastri Grande Grande E piccolo Aci Apri E' il mio turno Di guardia Oggi Quindi mi prenderò Cura di lui Sì signora Non ucciderlo Va bene Solo se non mi uccide Prima lui Ah Io sono Yadomaru Lisa Piacere di Conoscerti E i due Parano Maledetto Dove hai nascosto Zanghezzo Sei noioso Quante volte Te lo devo dire Io sono Zanghezzo Ichigo Non so se tu riesci A comprenderlo Ma Zanghezzo E io Siamo sempre Stati un unico Essere Un unico E stesso Essere Sia io Che Zanghezzo Siamo entrambi Il tuo potere Spirituale Madonna Che brutto Font Io sono Sempre Stato una parte Di Zanghezzo Finchè i due In due Coabitano Nello stesso corpo È questione di dominanza Quando padrone e servo Si scambiano i ruoli Naturalmente Anche la forma Del corpo Cambia Quando sei vivo Sei coperto Di pelle Quando sei morto Diventi uno scheletro È lo stesso ragionamento E io ho guadagnato potere E presto Ho guadagnato La dominanza Ed è stato Zanghezzo Diventare parte Di me E ora Più tu provi A tirar fuori I poteri Di Zanghezzo Più è facile Per me Prendere il controllo Della tua Di anima Capisco Quindi se io Ti sconfigo qui Il vecchio Zanghezzo Diventerà di nuovo La fonte Della mia forza Spirituale Tu sconfiggermi È impossibile Ah sì? Dovresti aspettare A dirlo Almeno finché Non hai visto questo Sei dannatamente Cocciuto Ti ho appena Detto che è Impossibile Classico momento Uno contro uno Con se stesso Ma in realtà Nioli Ti dico E È una serie Di vent'anni fa Perché è una serie Iniziata nel 2001 Se non mi sbaglio Però Nonostante tutto Cioè Io Preferisco Tantissimo Una bella Double page Una bella Splash Dove C'è un'unica scena Figa Tutti che entrano in azione Fatta come si deve Che Le ultime splash page Di One Piece Dove Ha il contorno E un angolino No 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 Bancai E tutti e due Col bancai Quindi Quindi uno col bancai Bianco Uno col bancai Nero Sicuro Vediamo Ah vabbè Momenti a cazzo da cane Va bene Ah Ah Ok ok Tranquillo Fatemi vedere Com'è la scena Dove tutti entrano In azione A colori Ok Era la fine Qua Cioè proprio Lui Ha questa spada Lei che è seduta Sulla mano di lui E sul suo Appoggia il culo Sul suo piede In più a pianta Questa Lui con la spada Qua Lui Con questa Poi c'è Lei qua dietro Con questa Lui Qua E lui Qua dietro Grosso Con la spada Che arriva qua di fianco Perfetto Vediamo un paio Per ora Poche pagine Di quelle Proprio devastanti Bello Pillastroni bianchi Che si piantano Bello la versione Bianco e nero Con lui colorato Cioè Questa scena Con lui Messo così Con la spada Totalmente Bianco e nero Che sembra uscito Un fumetto Devastante Devastante Bello 219 Ban Rilascio Ah no Ban Kai Ah Infine È incominciato Boom È un buco Hichigo e Hichigo Dettonano Terremoto Sbalorditivo Terremoto Nel Brong Tac E ovviamente Lui spada bianca Figo Tic Tic Lui tranquillo Con la spada nera Lui Incazzato Con la spada bianca La versione Strike Bastardo Da quando Conosci il Ban Kai Non è ovvio Da quando L'hai imparato tu Eh Sono te Hichigo Cioè Capiscimi Sono gli abbracci Metà panna Metà cioccolato Non pensare Neppure Di sbettere Sta iniziando A divertirmi Taci Getsuga Tensho Sì Va bene Va bene Trick Senza neanche Utilizzare la spada Con una mano Con una mano Getsuga Tensho Bam Rinko Pippo Due Uno Dieci minuti Aci E' tempo per una sostituzione Apri Sì signore Sì signore Boom Il tempo è finito Tocca a me Bella Questa entrata in scena Cattivissimo Il mio nome È Muguru Manse E adesso Ti picchierò Selvaggemente Adesso Sei contento Hichigo Ora le cose Hanno senso Sembra quasi Come se ucciderti Sia l'unico Metodo Come ho già detto Mi fai schifo Hichigo Ti sei dimenticato Durante il bankai Ero io L'unico ad usare Il Getsuga Tensho Ciò che facevi Era una semplice Imitazione Dopo averlo visto Da me Qualcosa Che un marmocchio Disperato È capace Di fare Hichigo Comunque Non preoccuparti Faremo in modo Che tu Non possa più Usare Il bankai BAM Spada Rotta Dici Il tipo Mugurma Hanse Ma adesso Vado a vedere Com'è In lingua originale 3 2 1 10 minuti Mu Gurma Quindi L'8 8 ruote Kense Non Hanse Mugurma Mugurma Kense Esatto Sì 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 Perché Mugurma Sono tipo Le 6 ruote Kensei È Il Il pugno Dell'ovest Mugurma Kensei Andiamo 220 20 Come stiamo Dividendo Le pause Stiamo Ruotando Tra noi 8 Così 10 minuti Per 8 persone 80 minuti 8 volte Asino Non contare Te stesso Sono solo 7 volte Bene Così 10 minuti Per 7 persone 70 minuti Sono concentrato Sulla barriera Eppure Per qualche motivo Sono incluso Nei calcoli È forte Più di quanto Avessi previsto In questa lotta Faresti meglio Stare più attento Kensei Perché Se non lo fai Rigenerazione Accelerata Boom E Oioi Oh Così abbiamo Una scena Esattamente Come è successo A Gringio Braccio Che parte Momento Momento Del Figo Figo Qua è veramente L'ololo Che si rigenera Che diavolo Adesso È Braccino Adololo Bello Ah E gli ha mangiato La spada Questa è una cosa Inattesa e veloce Una trasformazione In ollo Il tempo Che abbiamo Nel controllo Sulla conversione In ollo È al massimo Di un'ora Se la porta Si apre Avremo soltanto Dieci minuti Per sei persone Quindi toccherà Nuovamente a me Sarà sicuramente La fine Eh sì Quasi full mask Eh beh La spada È stata Detonata Zanghezzo Eh quella Non è Zanghezzo Come ho detto Io sono Zanghezzo Bastardo Come al solito Impazzisci solo Per le piccole cose Che accadono Perché ti muovi lentamente Senza un'arma Ichigo Pensi che puoi dire a me Qual è la differenza Tra un re E il suo cavallo Cosa E non pensare a risposte come Perché una due gambe E l'altro quattro O altre scemenze del genere Nella forma Nell'abilità E nella potenza Quasi come se i due Potessero essere Un'unica esistenza Ma l'unico che combatte Per arrivare all'apice Diventa il re Quello che rimane Diventa il cavallo Restando al precedente Ribello Ora ti chiedo Qual è la differenza Tra i due C'è soltanto una risposta L'istinto Uno strumento vitale Per qualcuno Che ha ugual potenza Ma ne desidera ancora di più Uno strumento vitale Per chi desidera Diventare re Con questo La persona sarà Designata naturalmente La battaglia Designato più potere E usa tali potere Per cancellare In modo spietato I nemici Oltre ogni misura Affettandoli Affettandoli Parti interne Storpiandoli Tutto questo Porta ad una fame Accesa Per la battaglia La nostra pelle Spellata La nostra carne Tirata fuori Sia Ossa schiacciate Nervi annullati Ogni nostra parte Tagliata internamente Tutto Per affilare Il nostro istinto Omicida Tu non hai Cognizione di questo Il tuo istinto È troppo evidente Troppo normale Combatti solo Con la ragione Hai bisogno Sempre di una ragione Per sconfiggere Un nemico Che diavolo Pensa di attaccare Quando la tua Zanpacto È stata Vaporizzata Che diavolo Pensi di attaccare Quando la tua Zanpacto È stata Vaporizzata Come vedi Per questo Sarei sempre Più debole di me Ichigo Tac Trappanato Devi scusarmi Ichigo Sai in realtà Non so dove sia Zanghezzo Ma non ha senso Lasciare Un re Più debole di me Salire sulla mia schiena E farmi galoppare Come una piccola cagna Non tollererò Quel genere Di coesistenza Sei più deboli di me Così Ti distruggerò Così sarò L'unico E il solo Re Istinto Spada Cerchi Battaglia Spada Non posso mollare Spada 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 Oh La 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 Ora inizia One bleach Ah E si ciuppa La spada Ah Ah Tutto Di Medallo Dopo guardiamo A colori Istinto 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 Dove sono Finalmente hai deciso di aprire gli occhi Eh Ichigo Che impaci Che diavolo ci fai tu qui Ma cosa più importante Dove diavolo siamo Oh Che impaci Chi è Sono semplicemente Uno che è venuto qui ad ucciderti Cosa Cos'è questo Ma di cosa stai parlando Tu non sei che impaci Non abbiamo finito la nostra battaglia Tempo fa Finita Idiota Le battaglie Le battaglie sono differenti Da una lite E poi E se poi entrambi Continuano a vivere Non è definitivamente finita Sto solo dicendo Che non è Non ho una ragione Per combatterti Ho detto che hai bisogno Di una ragione Per una battaglia Smettila di girarci Attorno Ichigo Sei l'unico Che ha cercato Questa battaglia Cosa significa Sei l'unico Che cerca il potere Non ho ragione Ichigo E per un bastardo Che non cerca Nient'altro che potere Si passa da una battaglia All'altra Senza eccezioni Combatti per ottenere Più forza Oppure cerchi Più forza Per combattere Diavolo se lo so C'è una cosa Che capisco In qualche modo Entrambi abbiamo dimostrato Di essere lo stesso Tipo Di persona Siamo sempre Alla ricerca Ichigo Tu usi il tuo istinto Per cercare Queste battaglie Battaglia Questo perché Non hai altra scelta Per ottenere La forza Che desideri La battaglia Continua Ichigo Battaglia Afferrala E sopporta Il tuo dolore Prendi la tua spada E abbatti Coloro che stanno In piedi La tua strada Battaglia Non esiste Altra strada Per te Battaglia Tutto questo È davanti a te Battaglia È dietro di te Battaglia Ichigo Battaglia Battaglia Ok T'ho ciuppato La spada Zucca Bello com'è La molli La riprenda La riprenda In mano A Chi Merda Così sembra In qualche modo Hai avuto ancora Un po' di Dispuntazione Dopotutto L'istinto Di cui hai bisogno L'hai trovato In questa battaglia Battaglia Comunque Bene Così alla fine Mi hai battuto Mi hai battuto Suppongo che dovrò Chiamarti re Suppongo che dovrò Chiamarti realmente re Ma non dimenticare questo Ci sarà sempre Una piccola Ma giusta differenza Tra chi di noi È il cavallo E chi è il re Questo significa Che se ti trascuri Un po' di più Ti abbatterò E calpesterò Il tuo cranio Sotto i miei zoccoli Pensa a questo Come un avvertimento Se veramente Vuoi avere il controllo Sulla mia forza Allora Fino a quando Non deciderò Di apparire nuovamente Fai del tuo meglio Per non morire Stami bene Capito? Quasi trasformato In ollo completo Mancano solo i capelli Ma lui Si risveglia E detona la barriera Sono stra curioso Di leggere gli ultimi due episodi Bevo un goccio d'acqua però Icigo vero fratello Capone E visto che L'altra metà Di Icigo Icigo e l'altro Icigo Veri fratelli Veri fratelli Capone Siamo perfetti Bonolis Aveva previsto Tutto Quando gli fecero Lo scherzo Dei fratelli Capone Chi ci sta Vai fuori a guardare Chi ci sta sul cavallo Bene Non ha importanza Come lo si guardi Sei definitivamente Un ollo Così Hai perso Sono passati 60 minuti Da quando è entrato Rabu Il prossimo è il mio turno Ken sei? Tra tutti noi che siamo stati lì Chi ha impiegato il maggior tempo Nel processo? Dovrebbe essere Kyori 69 minuti e 0,2 Capisco E adesso che tempo siamo? 68 e 44 Così tiriamo una Tiriamo una Kamehameha Così a cazzo De cane Questa la voglio vedere A colori Si fanno le sfide È un 0 Rabu Tutto ok Rabu si vuole trasformare Naturalmente Altrimenti non ha nessuna possibilità Nessuna probabilità Nessuna possibilità Contro un simile reiazzo Cosa? Cosa? Ac Crea un'altra barriera Qui Ah È un po' fortino? Pianino 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 Ora è abbastanza fortino? Ah Come i serpenti Proprio Cade la pelle Trick Trick Ma intendevi la voce o intendevi Ah ma a cagare Avevo abbassato la voce perché credevo fosse troppo alta Ahaltra Ah E si squaglia anche la maschera Ac C Sì signore Boom E ora la maschera Perfetto Mi domando se il damerino sia ok Ac C Come ti senti, Ichigo? Non male! È tutto? Non ti dimenticare. Se tu ti lascerai andare un po', ricordati che in qualsiasi momento posso emergere, sovrastarti e schiacciare il tuo cranio sotto i miei zoccoli. Mi dispiace, ma non ti permetto di farlo. Eh? Kurosaki-kun non è venuto a scuola nemmeno oggi. Ma se mi concentro abbastanza forte posso ancora sentire il suo reiazzi, ma... Lui deve sbucare fuori... Sbuccare! Sbuccare in quel senso. Lui deve sbuccare fuori da qualche luogo dove fa un allenamento in segreto o qualcosa del genere. Suppongo che la cosa migliore non sia andare a cercarlo. Anche se non sembra Kuciki-san... Non sembra che Kuciki... Ma le virgole! Le cazzo di virgole! Mettetela una fottutissima virgola, per Dio! Anche se non sembra virgola, Kuciki-san è preoccupato ugualmente. Cazzo! Mi sto trattenendo, Fede! Non è mia usanza tirare dei porconi. Ok? Cerco di limitare l'uso dei porconi. Però... Dai! Dai! Niente un punto, niente una virgola! Vaffan... Ok... Kurosaki-kun... È lasciato Kuciki-san in disparte senza dirle nulla. Esatto Superjoy! È l'insegnamento Milord! Il mio compito esaurito! Ciao! Ma non hai fatto un cazzo! Non me ne frega niente! Ciao! Cioè, è proprio una roba del genere. E in questo momento vede... Veri statali! Sì, sì, Fede! E in questo momento vede... Cos'era quello? Depressione! Sento depressione! Ah! Da quando i Shidakune e Sadokune... Tutti hanno deciso di stare a casa da scuola! Sono stata così sola! Forse domani dovrei prendere una pausa e fare qualcos'altro da sola! O dovrei riunirmi con Tatsuki-chan e cercare qualcosa affinché si mangi assieme! Il problema è che Tatsuki-chan vuole mangiare qualcos'altro! Oh, sì! Tatsuki-chan mi farà sentire meglio dopo! Eeeh! Perché mangia! Bene, ho deciso! Domani andrò a casa di Tatsuki-chan e poi le parlerò di cosa ho sbagliato con lei! Ara! Bentornata a casa, Orihime-chan! Ah! Grazie, Shimura-san! Di nulla, Orihime-chan! Riguardo quelle due persone che recentemente stanno abitando con te... Sono persone affidabili? Eh? Cosa significa? Li avessi visti qualche minuto fa? Hanno trasportato un enorme oggetto meccanico nella tua stanza! Zzzzzzzzzzzz... Eh? Figo! Non lo è di sicuro Cos'è questo Toshiro-kun? Hai deciso di rientrare in un brutto momento Sono il capitano della decima compagnia Il Tsugaya Toshiro Sì, ti stiamo aspettando Il capitano anziano Aspettavamo E le virgole a cazzo di cane Aspettavamo Virgola Finissi il lavoro velocemente Aspettavamo che finissi il lavoro velocemente Ora La nuova emergenza chiama ad un altro scopo E questo scopo è confermare il vero obiettivo di Di Soske Aizen Per Dio Che traduzione Che Il vero obiettivo di Aizen Esattamente Suona come una questione così importante Vi lascio soli Aspetta Questo riguarda anche voi umani Quindi rimani e ascolta Sì Tra l'altro tipo c'è il computer qua che si sta ribaltando per terra No, è il televisore Perché questo c'è un videoregistratore Così a cazzo di cane Fra un po' va giù il televisore Ah, Matsumoto È passato un mese dalla fuga di Aizen So che le indagini della sede della quinta compagnia Dove lui ha trascorso la sua vita quotidiana E anche Nella camera dei 46 Nella Torre della Purezza E nelle librerie dello Spirito Superiore Stanno continuando Ci sono ancora grosse difficoltà in questa indagine Dato che le sue azioni sono state fatte in zone vietate Anche per i capitani Sono in pochi che sanno cosa c'è all'interno Ci può risparmiare le introduzioni, comandante? Per favore, la questione principale Sì, certo Ukitake, che a capo dell'indagine della libreria dello Spirito Superiore Vi ha scoperto una traccia misteriosa Ci sono documenti che Aizen ha letto Che contengono soltanto materiale sull'Ogioku E dati di ricerca riservati Ma, due giorni prima della scopassa di Aizen C'è un solo documento estraneo all'Ogioku Ma che fa parte dei documenti letti da Aizen Quello è? Hohen Hohen Hohen? Cos'è l'Hohen? È la chiave della famiglia reale Esattamente ciò che sembra dal nome Anche nella Soul Society ci sono cose come le famiglie reali Anche se hai chiamato re In realtà non c'è in questa esistenza Infatti concede alla Camera dei 46 di occuparsi degli affari della Soul Society E non interviene mai In verità né io né i capitani l'abbiamo mai visto di persona Così, beh, il re è chiamato Spirito Regnante È un simbolo rappresentativo come una figura esistente della Soul Society Inoltre il suo palazzo reale è in una dimensione separata dalla Soul Society È protetta da guardie reali Hohen apre la porta tra questa dimensione e lo spazio reale Quindi Aizen sana intenzione di uccidere il re Il suo piano è questo Ma il vero problema è un altro Il libro che Aizen sta leggendo Non diceva dove è nascosta Hohen Esattamente Per generazioni il luogo dove è custodita Hohen È stato tramandato verbalmente attraverso i 13 capitani Esatto Quindi non esistono libri che indicano a lui la posizione I documenti che ha guardato appartenevano all'era in cui l'Hohen venne forgiata La cosa che conosce è il metodo per creare un'altra Hohen Ovvero Questo significa che il problema è la creazione di un'altra Hohen Sbagliato Non è nell'atto di creazione Il problema sono gli ingredienti Per forgiare l'Hohen Servono un milione di anime modificate E un terreno ricco di anime In un raggio di umilio spiritico Un milione di anime modificate Proprio così Ma ciò in cui siete coinvolti Non sono le anime modificate Con terreno ricco di anime Sta indicando il punto con più concentrazione di reazzo nel mondo reale Questo posto cambia ogni volta Per questo giorno E' volta nel mondo reale Questo Per questo giorno e volta nel mondo reale Questo è nominato per avere una concentrazione di anime Con differente potere spirituale Probabilmente hai già capito Probabilmente hai già capito Il terreno ricco di anime A cui Hizen sta mirando E' la città di Karakura Amato! Un milione è compatto Un terreno ricco di anime In un raggio di umilio spiritico Sono separati dalla realtà E sono duri da ferrare Per dire tutto semplicemente Beh, non mi sta dispiacendo Mi sta divertendo Anche senza esso bisogna fermarli Per questa ragione esistono le 13 compagnie E abbiamo E' poco Ma abbiamo tempo Secondo il capitano Kerozci Logioko che è stato liberato dal suo sigillo E' in uno stato di confinamento Completerà il suo rilascio totale Tra 4 mesi Senza il risveglio De Logioko Non può usarlo sotto il suo controllo Quindi si muoverà soltanto Dopo che questa sarà completata Dopo che questa sarà completata La battaglia sarà decisa in inverno Fino ad allora Migliorate i vostri poteri E preparatevi rispettivamente Per le vostre battaglie Sì signore E ora Inoue Horime Lo scopo di Aizen è Il mondo reale Ci saranno delle volte In cui nemmeno noi potremo proteggervi C'è bisogno che anche il mondo umano sia forte Bene Puoi riferire questo messaggio a Kurosaki Ichigo Da parte mia? Sì Bene allora Vado a informare Ikako e gli altri capitano Vengo anch'io? Potresti aspettare un secondo capitano Itsugaya? Desidero parlare con te Ma c'è prima qualcun altro Che sta aspettando dall'inizio di parlare con te Vieni e parla un po' con questa persona Tu sei Cosa c'è che non va? Già stanco? Sado Yasutora Non ho ancora finito No di certo Kuchiki-san Sado-kun Ishida-kun Kurosaki-kun E si chiude così Con questi che vanno di corsa All'attesa di qualche mese di allenamento Quindi È finito un volume di allenamento Con qualche mese di allenamento E questo è un volume assolutamente Di allenamento E ti toccherà di Ti toccherà praticamente Vederlo o in O lo vedi qua su Twitch Però devi essere abbonato su Twitch Lo vedi in differita O altrimenti lo vedi Da lunedì della prossima settimana Su Youtube Scena con la spada Che si dissolve Spirito regnante Dov'era? Ah ok Perfetto Adesso vado a cercarlo Qua lui parla E BAM E lui si riprende E crea E gli rompe l'arma Questa scena è bellissima Anche se Devo dire Qua tutta la parte Del cavallo Mica cavallo La forma Mica la forma Il re Il cavallo Cioè qua gli ha fatto Tutta una pippa Gigantesca Sul Sullo Shogi Pippa gigante Per poi venire detonato male Da una spada Che è messa lì Va bene Adesso te lo dico io Battaglia Spada Spada Combatti E trafiggia Tra l'altro Stava per diventare Nero Anche lui Ma molla La spada Per tempo Cioè lui incontra Solo la gente Che gli dice Cosa deve fare Battaglia 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 Perfetto Un momento Logorria Anzi Logorrea Sì Tra l'altro Figo come Hollow Molto figo Come Hollow Pronto con un Sero E invece Rabu E lui butta giù La versione Bello No shaking throne Allora Ok Qua Qua che spiega Dove è andato a fare Ok Ok Perfetto La chiave del re Allora Ok 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 Questa Allora Ok Ok Palazzo reale Allora Allora Tutututu No Che maledetto Grazie Boencock Per i sette mesi Grazie mille Che insulto Che insulto Adesso mando Adesso Adesso mando un insulto Al butta Per messaggio Giusto per Qua Allora Ok 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 Non so se Allora Vediamo dov'era Perché mi son perso La scena Non mi ricordo Più dov'era La battuta Qua La battaglia Sare deciso In inverno Tututututututu Nel primo Oh Tututututututu Niente Lugio Ok Ok La chiave del re Ok Questa qua Perfetto Spirito regnante Perfetto Ci sono Qua Era Dall'altra parte Della tavola Era letteralmente Dall'altra parte Della tavola Qua Re Sì Spirito sovrano Spirito regnante Rei O Qua O A Na O Rei O To You Cioè E Praticamente Per quanto riguarda Il re Viene chiamato Con il nome Di Rei O Cioè Spirito sovrano Spirito regnante Rei Spirito O Il Kanji di re Scusate Quindi Spirito regnante È giusto Spirito regnante Re Spirito Ci può stare Comunque Spirito regnante Secondo me Ci sta bene Vediamo Vediamo qua Come si chiude Con un bucone Gigante Non lo so Io Ci può stare Il re Degli spiriti Ci può anche stare Il Il kanji Il kanji Utilizzato È quello di spirito Anima Fantasma Ombra Quindi Può anche essere Come re Degli spiriti Ci può stare Ci può anche stare Come re Degli spiriti Senza Buttarsela E qua Finisce Con Ok Bella anche Ci può stare Sia uno Che l'altro Comunque Ok Pensavo Che sarebbe Durato di più Invece Va bene Ci siamo Un'ora e quaranta Con Praticamente Mezz'ora Di Di cose Mezz'ora Di Di anime Giusto per chiudere Con il dio Delle anime Il re delle anime Allora Grazie Nuovamente Per la compagnia Grazie per la serata E Volume Che è Letteralmente Volato Finito Vi ringrazio Per avermi tenuto Compagnia Nonostante E Dall'altra parte Mi abbiano fatto Una concorrenza Spietata Mettendo su Il Mettendo su Il One Piece Deep Vabbè Tanto io lunedì sera Gioco di ruolo Quindi io lunedì sera Non posso fare live Quindi chi se ne frega E Vi ringrazio E noi Ovviamente Come sempre Questa live La potete rivedere Come VOD Su Twitch Se siete abbonati Se invece Non siete abbonati La potrete rivedere La Prossima settimana Lunedì Sperando di non fare Come faccio tutte le volte Che Lo edito tutte le volte All'ultimo secondo E poi mi dimentico Comunque la potete trovare Lunedì E la potete leggere Senza Le immagini Censurate Ma solo se siete abbonati A segnale di fumetto Altrimenti Se non siete abbonati A segnale di fumetto C'è la lettura Ma ovviamente Ci sono le scan Blurrate Detto questo Io vi saluto Vi do la buonanotte E noi Ci vediamo domani Con la live spoiler Ciao belli Ci vediamo domani Ciao Ciao